La Paglia Tu parli troppo di soldi, Gavino Ledda Promesso di aiutarti a studiare, lo farò Ora cerca di raggiungere il portone sotto l'edicola E se sbagli, niente lezione di italiano Qual è l'edicola? Prima regola, imparare i vocaboli La vedi quella pianta di mimosa laggiù alla base del muro? Ecco, sali su, su, su Quella è l'edicola Nel linguaggio corrente, edicola significa chiosco dei giornali In storia dell'arte, significa tempietto racchiudente Uno o più statue Ecco, vai!